Sulla regione in questo fine settimana è atteso un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Correnti sud occidentali progressivamente più intense e umide, insieme a un fronte che arriverà nella giornata di sabato, porteranno piogge intense. Per tutta la giornata di sabato, per lo meno dal mattino fino a poco dopo il tramonto, avremo queste piogge estese sul territorio, intense, anche molto intense sulle zone orientali, specialmente verso la Slovenia e in genere sulle prealpi giuglie, localmente anche temporalesche. Correnti sostenute da sud ovest in quota, quindi vento forte, vento da sud sostenuto anche sulla costa con possibili mareggiate. La neve purtroppo solo ad alta quota, oltre i 2000 metri, viste le temperature in aumento. Andrà decisamente meglio domenica con un miglioramento, resterà ancora umidità nei bassi strati, quindi possibili nubi basse, soprattutto sulle zone orientali, ma direi una certa variabilità con delle schiarite più ampie sulle zone più interne e più in quota della montagna. Non è del tutto escluso ancora qualche debole pioggia, ma con bassa probabilità appunto sulle zone orientali. Per quanto riguarda la pianura, bisogna fare attenzione alle possibili formazioni di nebbia nelle ore notturne. Ancora tempo mite e umido all'inizio della prossima settimana, piogge sparse lunedì sera e probabilmente un po' più abbondanti nella giornata di martedì. Buon fine settimana a tutti!